Assessore regionale Silvio Paolucci, allora l'annuncio dei lavori relativi al nuovo ospedale di Vasto, si tratta di una possibilità concreta e la volta buona quindi oppure l'ennesimo annuncio come tanti ne sono stati sentiti da questo territorio negli ultimi anni? Su questo punto preciso che metto a disposizione tutti i provvedimenti e le carte che dimostrano che in questo caso non si tratta di annuncio ma che il lavoro di 36 mesi ha portato ad avere il trasferimento dal governo nazionale, in questo caso dal governo Renzi in due tranche successive di 143 milioni di euro per i nuovi ospedali e quindi c'è anche il 40% che riguarda come per tutti gli altri presidi la parte pubblica e l'ospedale di Vasto e poi c'è quello che ci ha messo la regione perché il ricorso al partenariato ha tolto di mezzo il valore della sdamanializzazione con la quale noi non avremmo avuto l'assenso del governo e quindi qual è la novità? Che abbiamo il parere definitivo e favorevole alla sigla dell'accordo di programma, nel momento in cui firmeremo l'accordo di programma non si può tornare più indietro, questa è la grande sostanza di lavoro di questi 36 mesi ma poiché c'è anche chi fa polemica sulle carte e sui fatti pubblicherò e darò a chiunque la disponibilità di tutti i provvedimenti protocollati che dimostrano che questo governo regionale e questo governo nazionale hanno finalmente messo la parola fine sul nuovo ospedale di Vasto che si farà. E allora quando l'apertura ha previsto a chiavi in mano come si dice in questi casi dell'ospedale e qual è la cifra che sarà necessaria a costruirlo? La cifra complessiva è di circa 85 milioni di euro divisi 40-60 come per Avezzano e Lanciano, 40 di risorse interamente pubbliche, 60% di anticipazione privata poi alla fine sono sempre risorse pubbliche che le vanno a finanziare, questo accelera la rapidità della possibilità di cantierare prima e di aprire poi il nuovo presidio è evidente che come funzionerà la tempistica? Al momento in cui sigleremo l'accordo di programma, l'auspicio è evidentemente punta massima entro fine anno poi si possono presentare, i proponenti possono presentare i progetti e l'azienda sanitaria ha 90 giorni di tempo per concludere l'istruttoria così diciamo si potrà partire con una certa celerità non scordiamoci e quindi ricordiamoci che i passati che riguardano per esempio il presidio di Chieti non sono favorevoli a un'intera procedura pubblica un ospedale pensato negli anni 60 è stato inaugurato nel 99 quindi nell'anno 2000 e dopo 15 anni è stato dato per inagibile per alcune sue componenti molto rilevanti per il cosiddetto cemento impoverito quindi diciamo io non parteggerei per l'uno l'altro strumento ma parteggerei per una governance efficace di questo strumento